In questo video andremo a vedere come proteggere una cella, una riga o una colonna in Excel e quindi come evitare che possa essere modificata Per farlo intanto la prima cosa da fare è segnalare tutte le celle come modificabili Quindi clicchiamo sul triangolino presente tra l'1 e la A In questo modo ci selezionerà tutte le celle presenti Assicuriamoci che siano tutte selezionate Clicchiamo con il tasto destro su una qualsiasi delle celle e clicchiamo su formato celle Da qui andiamo su protezione Possiamo vedere che sono tutte segnate come bloccata Nel nostro caso ovviamente non vogliamo bloccarle tutte Ma vogliamo bloccarne solo alcune Quindi disattiviamo bloccata e clicchiamo su ok In questo modo tutte le celle saranno modificabili In realtà nella normalità questa opzione non serve a nulla Perché se non proteggiamo il foglio di lavoro ovviamente non serve a niente Però ci servirà dopo Adesso ad esempio andiamo a inserire dei valori nelle prime tre celle Ok E voglio che queste tre celle invece siano bloccate Quindi voglio che questi valori non siano modificabili Quindi clicco con il tasto destro Vado su formato celle Protezione E in questo caso attivo bloccata Clicco su ok A questo punto clicco su revisione Seleziono proteggi foglio Qui abbiamo o proteggi foglio o proteggi cartella di lavoro Se selezioniamo proteggi foglio Andiamo a proteggere semplicemente questo foglio Quindi il foglio 1 Nel caso in cui dovessi avere anche un foglio 2 Non sarebbe protetto Se volessi proteggere tutti i fogli della mia cartella di lavoro Ovviamente dovrei selezionare proteggi cartella di lavoro Al momento comunque non mi interessa Quindi ritorno su foglio 1 E clicco su proteggi foglio A questo punto lascio tutte le impostazioni così come sono E inserisco una password Clicco su ok Mi chiederà di confermare la password A questo punto il foglio è protetto Se io vado a inserire un contenuto in qualsiasi altra cella funzionerà Se vado a modificare la cella che ho bloccato Mi dirà che sono su un foglio di lavoro protetto E devo rimuovere la protezione Per farlo quindi dovrò cliccare su rimuovi protezione foglio Sempre da revisione Inserisco la password Rimuovo la protezione E posso modificare la cella Se vado a reinserire la protezione Ovviamente tutte le altre celle saranno modificabili Le prime tre come sempre saranno protette Questo quindi è il metodo per poter proteggere le celle in Excel Andiamo a vedere come fare per proteggere magari un'intera riga o un'intera colonna Quindi rimuoviamo la protezione dal foglio Rimuoviamo la protezione quindi sblocchiamo le tre celle Se io volessi ad esempio proteggere tutta la colonna A Mi basterebbe selezionare la colonna A Cliccare su formato celle Bloccarla E cliccare su ok A questo punto clicco su proteggi foglio Vado ad inserire la password Ovviamente tutte le altre celle e colonne saranno modificabili La colonna A non sarà modificabile perché l'ho protetta Ovviamente per modificarla dovrò sempre rimuovere la protezione Posso fare la stessa cosa sia per le colonne Quindi cliccando sulla lettera della colonna Sia per quanto riguarda le righe Cliccando sul numero della riga Quindi posso bloccare sia colonne che righe E' importante ricordare che se ho bloccato qualcosa La dovrò necessariamente sbloccare Se non mi ricordo quali sono le celle che ho bloccato Mi basterà cliccare nell'angolo Cliccare su formato celle E cliccare due volte su bloccate In questo modo sblocco tutte E vado semplicemente a riselezionare quelle che voglio andare poi a bloccare Questo è tutto per questo video Come sempre se vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace A condividerlo e a commentarlo E se avete richieste come sempre scrivetemelo nei commenti E cercherò di accontentarvi Grazie per aver seguito questo video E ci vediamo al prossimo Grazie per aver guardato il video